Il problema della contraffazione è un problema oggi attualissimo, di grossa, che tocca oramai il cittadino e il consumatore in maniera diretta ed è un problema che può essere risolto prima di tutto con operazioni di tipo investigativo e di tutela che dovrebbero essere portate avanti prima di tutto dalle case reali, titolari dei diritti di proprietà industriale e quindi delle case titolari, ad esempio, dei marchi. Un buon controllo del mercato, un buon controllo di quello che è l'immissione di prodotti contraffatti sul mercato potrebbe essere degli strumenti di tutela e di eliminazione del problema della contraffazione. Come strumento prettamente di controllo delle forze dell'ordine oggi la Guardia di Finanza ha degli strumenti molto ampi di tutela sia da un punto di vista prettamente investigativo ma anche da un punto di vista di interventi operativi. Sono oramai all'ordine del giorno i casi di maxi sequestro di prodotti contraffatti il più delle volte provenienti da mercati esteri, Est Europa, Est Asiatico, Sud America, Cina, India e Corea e soprattutto in quelle immessi attraverso i sistemi classici quali ad esempio i container in zone come quella di Salerno con la presenza di un porto commerciale forte nel quale veicolano ogni mese migliaia di container. Quindi la presenza costante delle forze sul territorio di controllo delle merci che arrivano dai paesi extracomunitari ma anche intracomunitari in Italia potrebbe essere un grosso sistema di eliminazione del problema contraffazione. Il consumatore possiamo dire che oggi ha dei grossi problemi nel riscontrare il problema della contraffazione proprio perché le tecniche oggi di produzione sono diventate talmente specializzate da riuscire a mascherare anche in maniera perfetta quello che è la contraffazione di un prodotto. Certo una cosa è parlare del prodotto di abbigliamento dell'accessorio che comunque non incide prettamente sulla salute del consumatore e altro invece parlare di prodotti quali quelli alimentari o farmaceutici che incidono sulla salute. L'attenzione del consumatore è un'attenzione che deve essere comunque di tipo capillare prima di tutto la lettura delle confezioni la lettura della confezione deve essere dettagliata bisogna riuscire a capire prima di tutto i luoghi di provenienza e oggi la legislazione ha imposto a tutti i produttori di indicare la provenienza dei prodotti questa è una cosa fondamentale che già potrebbe di per sé limitare l'induzione in errore da parte del consumatore se solo si leggessero in maniera dettagliata le confezioni al minimo sospetto magari non acquistare il prodotto o addirittura se si ha anche un minimo di certezza di un problema di contraffazione denunciare immediatamente l'accaduto alle forze a questo predisposte grazie a tutti grazie a tutti